C'è tempo fino al 10 febbraio per iscriversi ai circa 40 posti messi a disposizione a Pesaro dal Servizio Civile Nazionale. Una chance preziosa per i ragazzi tra 18 e 28 anni di mettersi alla prova e ricevere un compenso di 444 euro per 12 mesi. Una domanda che potrà essere presentata solo online sul sito politichegiovanili.gov.it accedendo con le proprie credenziali speed. Tra i tanti progetti messi a disposizione da enti e associazioni del territorio troviamo ad esempio il centro d'ascolto Caritas che cerca quattro ragazzi disposti a sviluppare competenze professionali in progetti di inclusione sociale. Due i posti disponibili al Banco Alimentare che invece cerca persone in grado di aiutare nelle mansioni di stoccaggio del magazzino e recupero di alimenti messi a disposizione dai donatori, mentre l'Unione Italiana Cechi e Ipovedenti cerca altri quattro ragazzi che si vedranno impegnati nel dare sostegno domiciliare alle famiglie con minori disabili visivi, fornire supporto nella mobilità urbana e tanti altri servizi che garantiranno il sostegno dei non vedenti. Progetti di servizio civile anche alla CEIS e a Conf Cooperative e lo stesso Comune di Pesaro mette a disposizione otto posti per altrettanti giovani. Servizio civile nazionale è un'importante azione del nostro governo che da anni dà la possibilità a tanti giovani tra i 18 e i 28 anni di fare un'esperienza lavorativa o comunque professionale, sociale, in una delle realtà delle nostre comunità all'interno delle associazioni e abbiamo voluto dare questa possibilità anche all'interno del Comune di Pesaro. Infatti questo è il secondo anno, l'anno scorso sono stati oltre 14 volontari impegnati nei vari servizi del Comune e per la prima volta anche la presidenza del Consiglio Comunale. Partecipazione, coinvolgimento, preparazione all'attività pubblica, tutto ciò che riguarda i processi decisionali del Comune di Pesaro sono diventati un'opportunità anche per i giovani. Attualmente è una volontaria impegnata alla presidenza del Consiglio Comunale, quest'anno è aperto un nuovo bando con altri 4 progetti e i relativi 8 volontari. Quindi i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno candidarsi nei vari progetti che il Comune di Pesaro ha messo a disposizione per poter fare questa bellissima esperienza della durata di un anno e con un piccolo compenso. È necessario iscriversi al sito del Servizio Civile Nazionale, selezionare il proprio progetto e candidarsi. Vi aspettiamo in tanti candidati e speriamo tutti nei progetti del Comune di Pesaro che vederanno coinvolti per le grandi strategie e le grandi iniziative che vorremmo portare avanti.